Il Ministero della Cultura finanzia il percorso museale dedicato a Papa Luciani con 1,8 milioni di euro, contribuendo in questo modo anche alla rinascita dell'edificio che ospitò la prima latteria cooperativa d'Italia, quella di Canale d'Agordo, fondata da Don Antonio della Lucia nel 1872. La beatificazione di Giovanni Paolo I, prevista per settembre, porta con sé anche questa iniziativa che va a completare l'offerta storico-culturale legata alla figura del pontefice a Gordino e al contesto in cui è cresciuto. Il percorso museale comprende ovviamente anche il Museo Albino Luciani, la Casa Natale del Futuro Papa, la Chiesa del Paese e anche altri punti di interesse come la Chiesa di San Simon a Vallada e la Casa delle Regole. Il progetto è stato presentato a novembre dal sindaco di Canale d'Agordo Flavio Colcernian e dal direttore del Museo Albino Luciani Loris Serafini e alla fine è stato finanziato insieme ad altri 37 progetti sparsi sul territorio nazionale dal piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali che prevede un investimento complessivo di 200 milioni di euro. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, commenta il Ministro della Cultura Franceschini, è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese. Gli fa eco anche il Ministro ai rapporti con il Parlamento Federico d'Inca e questa è la direzione su cui continuare a investire. Per quanto riguarda Canale d'Agordo, commenta il deputato Roger De Menek, il finanziamento ricevuto è un investimento che rafforza l'aspetto culturale oltre che turistico del comune di nascita di Papa Giovanni Paolo Primo.